Se non hanno pane che mangino brioche, disse secondo alcuni storici nel 1789 un'altezzosa Maria Antonietta di Francia in riferimento alle proteste dei parigini che soffrivano la fame. Parafrasando la poi sfortunata regina, la delegazione astigiana dei metalmeccanici di Cisle e Will ha organizzato sotto il palazzo della prefettura una protesta simbolica distribuendo brioche agli astigiani di passaggio per il mercato di Piazza Alfieri. Un gesto provocatorio che vuole agganciarsi alla mobilitazione europea proclamata dalla CES, la Confederazione Europea dei Sindacati contro le politiche di austerity varate negli ultimi mesi dai governi nazionali. Allora la scelta è stata quella di aderire alle iniziative della CES, del sindacato europeo, il confederale, su questa giornata di sensibilizzazione sul modello di austerità che il governo internazionale della comunità europea sta adottando per risolvere i problemi. Noi abbiamo un doppio problema che è anche quello di un governo italiano che sulla equità assolutamente non sta facendo nulla. Le cose fatte fino ad oggi hanno colpito i soliti noti, cioè i pensionati e i lavoratori dipendenti e per giunta abbiamo un problema enorme sugli invisibili che sono i disoccupati. Un 36% di disoccupazione giovanile è una cosa impressionante. Altre organizzazioni hanno scelto lo sciopero come strumento, noi abbiamo scelto di sensibilizzare con questa iniziativa distribuendo brioche come segnale di distanza di questo governo e di chi gestisce le problematiche del popolo dalle problematiche vere in riferimento a quello che è stato prima della rivoluzione francese la famosa frase che chi non ha il pane mangi brioche. Nessuno sciopero quindi per Wille Cisle il 14 novembre, a differenza dei colleghi della CGL i cui iscritti hanno incrociato le braccia in numerosi settori. Cosa c'è che non va in queste nuove riforme? In modo particolare la proposta sull'IVA fa sì che per le famiglie dove è monoredito con figli a carico non ci sia riduzione della pressione fiscale e poi c'è un aumento del costo dell'IVA su tutti i prodotti. Come mostrano gli scatti del fotoreporter Roberto Signorini, in piazza sono scesi anche alcuni studenti per protestare contro i tagli della scuola, mentre i disagi sono stati avvertiti dai pindolari per la soppressione del servizio ferroviario a causa dello sciopero indetto tra le 14 e le 18 del pomeriggio.